Tra 60 giorni si conosceranno le risultanze dell'autopsia eseguita sul corpo del centauro di Coppieto Federico Nardecchia, morto a seguito di un grave incidente stradale sabato, mentre era a bordo della sua motocicletta nel valico delle Capannelle. Ad eseguirla l'anatomo patologo dell'ASD dell'Aquila, il dottor Giuseppe Calvisi. Oggi la città è intanto dall'estremo saluto a Federico, molto conosciuto all'Aquila, lascia la moglie e un figlio. La Procura della Repubblica, come è noto, ha aperto un'inchiesta e la Polizia Stradale prosegue le sue indagini e sta ascoltando tutti i testimoni per capirne di più sulla dinamica esatta dell'incidente stradale. Un incidente che ha coinvolto anche un'automobile, il cui conducente è rimasto illeso, e dei ciclisti che transitavano sulla strada che hanno riportato dei traumi e sono ricoverati all'ospedale San Salvatore. Nardecchia, secondo le prime ricostruzioni, dopo l'impatto, è riuscito a rialzarsi per sincerarsi anche delle condizioni degli altri coinvolti, ma i traumi riportati erano troppo significativi e subito dopo si è riaccasciato a terra senza vita.